Siamo qui con Fausto Manznada, il Tour de Forman si è concluso, un po' il tuo bilancio, secondo in classifica generale, una vittoria di tappa, sei bene no? Sì, sicuramente alla partenza della quarta tappa pensavo di riuscire a vincere anche la generale, però ieri è stata una giornata negativa, non sono funzionate un po' di cose e purtroppo ho perso la leadership della corsa, però sono comunque soddisfatto, alla fine ho vinto una tappa, sono arrivato secondo in generale, è la prima gara della stagione e va bene così, non ho altro da aggiungere, penso che dobbiamo continuare a guardare avanti e lavorare per i prossimi obiettivi. Quali saranno appunto le prossime corse? Adesso mi fermerò qui e correrò il Tour, l'Uai Tour, per cui tra qualche giorno si inizierà una seconda gara molto importante a tappa, la prima World Tour, il livello sarà molto più alto, però cercheremo comunque di ben figurare. Vai, va bene, grazie Fausto. Grazie, ciao.